Allora, intanto permettetemi di spendere un pensiero per il mister Auteri, che insomma digerire un esonero non è mai roba semplice, quindi capisco la sua sensazione in questo momento e chiaramente mi dispiace. Detto questo, tocca a me e me la godo, se permettimi il termine. Volevo ringraziare il Presidente e il Direttore Matteassi per la grande occasione che mi è stata concessa. Per Pescara per me è la seconda casa, per cui per me è una grande opportunità, è un grande onore, l'ho detto un tempo fa, due anni fa, lo ribadisco oggi, per me stare qui è un sogno. Quindi sono assolutamente felice di rivedere un sacco di facce, tra cui le vostre, con le quali magari col seno di poi anche io potevo fare meglio. Quindi questo è un piccolo faccio ammenda di alcune situazioni mie, che non vuol dire avere un rapporto chissà che cosa, però volevo dire magari in alcune cose. Ma l'esperienza sia nella vita ma anche nel calcio serve appunto a quello. Adesso non voglio semplificare la cosa, ma credetemi che non c'è stato niente, nel senso che un anatore fa delle scelte, il giocatore può ovviamente non accettarle. Ci sono delle frizioni, ma è finita per quanto mi riguarda dopo due secondi. Dopo è chiaro, i risultati non mi hanno accompagnato in quel frangente, ho fatto una scelta diversa, ma ti anticipo anche con Cristiano che oggi è il mio secondo. Credetemi che è più il vivere in quel momento, dove chiaramente non era semplice stare lì, ma attualmente le cose vanno splendidamente. Non vedo l'ora che sia domani la partita per ripartire. La squadra sta bene, è una squadra di aprile, di quasi fine del campionato, quindi dei piccoli acciacchi da smaltire, di partita in partita, ma la squadra sta bene. Ha voglia di fare, mi auguro che domani da subito si veda questo suo spirito. Ho trovato una squadra che vuole dimostrare comunque di fare bene, di provare a scalare una posizione, quindi di fare bene in queste tre partite qui. E poi insomma, noi vogliamo fare il massimo, vediamo il nostro massimo, cosa saremo bravi a fare, questo è il nostro obiettivo. Il clima? Il clima è positivo, io sono ottimista di natura, non posso vedere scheletri da nessuna parte, io ho voglia di fare, è la stessa cosa che sta a loro. Quando c'è un campionatore, giusto o sbagliato che sia, io sono un foglio bianco, per cui per me tutto quello che loro mi fanno vedere io lo accetto e quindi è quello che è successo in questi tre o quattro giorni. Allora, i numeri un pochettino ovviamente servono, mi rendo conto, però è ovviamente anche l'interpretazione di quello che andremo a fare, di quello che andremo a fare i ragazzi. Ho dei ragazzi bravi, che questa è la cosa più importante, per cui con delle qualità ben definite, ad esempio i due esterni come potrebbero essere Clemenza e Dursi, sono due esterni sì, ma hanno caratteristiche diverse, per cui a ognuno di loro chiederò quello che sanno fare, né più né meno. Come ho detto prima, è una squadra che ha fatto un campionato, quindi ha qualche piccolo acciacco, ma niente di grave, è una squadra che la voglio vedere all'opera, in settimana abbiamo fatto dei buoni allenamenti, i ragazzi hanno risposto bene, è chiaro che il banco di prova può essere sempre la partita. Allora, Pontisso credo, non lo scopro io, è un play, ha sempre fatto quel ruolo, Pompetti è un giocatore che ovviamente ha delle qualità ben definite, magari più dinamico, se vogliamo vederlo dal punto di vista sia tecnico che tattico, ma ho anche Carlo Deliso che potrebbe fare quel ruolo, sono tre giocatori che hanno caratteristiche, tutti e tre potrebbero fare il play, vediamo, c'è un'idea di partenza, vediamo poi se funziona, altrimenti velocemente potrebbe cambiare, l'idea potrebbe essere quella di giocare con il vertice basso, quindi con Simone play. Guarda, i ragazzi che si sono messi in luce, tra cui sia Alessandro, sia Davide Veroli, che hanno fatto benissimo, la formazione dei ragazzi non la sanno, per cui hanno avuto spazio fino ad oggi, per quanto riguarda i portieri lo vedrete domani. Pescara da fuori, insomma, io sono la Bruzzese, il Pescara lo guardo sempre con un occhio diverso ovviamente, e quando fa bene sono contento, altrimenti comunque cerchiamo sempre di capire, anche da allenatore, capire cosa poteva fare, se poteva fare meglio e cosa no. Però, purtroppo, la decisione dell'anno scorso l'abbiamo subita tutti, non è mai una cosa bella. Siamo qui, siamo qui per provare a fare qualcosa di importante, ce la mettiamo tutta. Se fosse stato solo quello, sarebbe stato semplicissimo tornare indietro, chiaramente non è solo una persona che fa differenza, altrimenti sarebbe troppo semplice. Ma allora, complimenti a Massimo glielo ho fatti per telefono, quindi quello che sta facendo insieme a Donatelli è sotto l'occhio di tutti, quindi, insomma, i complimenti a lui li faccio pubblicamente, ma glielo ho fatti anche in privato. È chiaro che quella è la chiave, chi trova la chiave vince. Loro in questo momento hanno trovato una squadra che funzionava e hanno messo del loro per farla continuare a funzionare, quindi è una squadra molto forte, ma le squadre forti vanno comunque guidate, e loro sono stati bravissimi appunto in questo. E adesso, ripeto, il campo, il campo dirà quello che io riuscirò a fare, quello che i ragazzi riusciranno a fare, il tempo per farlo c'è, quindi zero alibi, vediamo cosa otterremo dalle partite. Ma allora, il discorso della continuità dei ragazzi, sono qua da pochissimi giorni, e quindi l'idea che mi sono fatto è la stessa cosa che ho detto alla squadra. Cercherò di valutare quello che ho fatto per questi 3-4 giorni, datemi il massimo, poi sono pagato per fare delle scelte e quello che farò. Quindi, c'ho dei ragazzi bravi, 11 partiranno, spero che facciano bene. Poi è chiaro che dovesse entrare qualcuno, qualcuno magari dovesse fare leggermente meno bene, valuteremo ovviamente i cambi, però tutti i allenatori del mondo giocano con 13-14 ragazzi, quindi non credo che sarò diverso dagli altri. Poi è chiaro, ben vengono le sorprese, siamo qua pronti ad accoglierlo. Per quanto riguarda me, è chiaro che sono diverso, altrimenti vuol dire che sei stato in giro a perdere tempo, no? Ho studiato, ho letto, ho guardato, quindi l'esempio che ho fatto prima, quindi insomma, ho aggiunto qualcosa, spero, e quindi insomma, qualcosa in più, oltre agli anni, insomma, qualcosa nel cervello, spero sia entrato. Beh, allora, io me lo auguro, è chiaro che avere qualcosa in testa e riuscire a trasmettere velocemente alla squadra non è proprio semplicissimo, però insomma, avere un paio di concetti che già riusciremo a vedere domani potrebbe già essere un buon punto di partenza. Non dovesse essere così velocemente, dovremmo cercare di farlo. Il bel gioco sì, sicuramente speriamo di ottenerlo, ma la cosa importante sono i risultati, come spesso nel calcio succede, quindi speriamo di abbinarli ovviamente. Ma la squadra sta bene, ho detto anche prima, la squadra sta bene, ha voglia di fare, è chiaro. Io ho un'idea in testa e spero di vederla domani, vediamo se le gambe poi risponderanno. Sì, nel calcio ovviamente lo sappiamo tutti, qua presente non c'è niente di scontato. È una squadra che è aggrappata alla categoria, non vuole morlarla e ha ottenuto dei risultati ultimamente, quindi è una squadra che è organizzata, ha voglia di fare, ha delle caratteristiche ben precise, per cui sarà una partita difficile.